Cari amici buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. L'oggetto del filmato odierno sarà questo telecomando appartenente ad un televisore a led di marca LG che mi è stato ceduto nei giorni scorsi in quanto necessitava di una riparazione. Questa cari amici è la primissima volta che mi cimento nella riparazione di un telecomando in quanto di solito sono piuttosto restio a riparare questa tipologia di dispositivo elettronico. Tuttavia quest'oggi ho deciso a mio rischio e pericolo di tentare. Il problema principale di questo telecomando è che si presentava completamente defunto. Nessuno dei vari tasti sembrava sortire il benché minimo effetto. La causa del malfunzionamento era dovuta all'abbondante fuoriuscita di acido dalle batterie in quanto purtroppo la proprietaria del televisore e quindi del telecomando ha deciso di risparmiare forse un pochino troppo acquistando delle batterie di qualità veramente ma veramente pessima. Sfortunatamente l'acido rilasciato dalle batterie ha pesantemente corroso i terminali all'interno del vano e purtroppo hanno danneggiato anche due piste sul circuito stampato che si trova immediatamente qui sotto la tastiera. Pertanto si è resa necessaria l'apertura dei due semigusci del telecomando che vi garantisco cari amici non è delle più amichevoli in quanto in questo telecomando non sono presenti delle viti di chiusura e così di primo occhio si potrebbe pensare addirittura che i due semigusci siano termosaldati. Invece fortunatamente no. Se riusciamo a vedere è presente questa piccolissima fessura che separa i due semigusci e grazie all'aiuto di una sottilissima lama di un taglierino sono riuscito a far saltare tutti i vari incastri da un lato e dall'altro separando quindi i due semigusci del telecomando consentendomi quindi l'accesso alla tastiera e al circuito stampato. Fortunatamente le due piste corrose dall'acido sono state ripristinate abbastanza facilmente utilizzando un po' di filo a stagno mentre per quanto riguarda i terminali all'interno del vano batteria si è reso necessario un minuzioso lavoro con carta vetrata a grana fine e un po' di pulisci contatti. Andremo adesso a testare il funzionamento del telecomando ma poiché non mi è stato ceduto il televisore per poterlo testare andremo a testarlo con un metodo alternativo che prevede l'utilizzo della mia radiolina seleco che vediamo qui davanti a noi in primo piano. Allora accendiamo intanto la radio sulla frequenza am modulazione d'ampiezza su una stazione a caso molto bene si sente solo del fruscio ma a noi va benissimo e proviamo a sentire cosa accade se io premo un tasto qualsiasi sul telecomando puntandolo verso la mia radiolina. Ascoltate attentamente. avete sentito? questo suono che abbiamo sentito attraverso l'altoparlante della mia radio è il segnale prodotto ed inviato dal telecomando attraverso il sensore infrarosso che viene captato dall'antenna a nucleo di ferrite incorporata inoltre possiamo notare che nella parte alta del telecomando si accende questa luce arancione che mi fa ben sperare il telecomando funziona. Eureka cari amici! spegniamo pure la radio credetemi sono soddisfatto questa è stata la primissima volta in tanti anni che mi sono cimentato nella riparazione di un telecomando non amo particolarmente riparare i telecomandi riparare anche questo telecomando è stato abbastanza un incubo più che altro è stato un incubo aprirlo più che ripararlo insomma comunque sia fortunatamente come abbiamo potuto sentire il telecomando è ancora funzionante sono stato in grado di ripararlo seppur con molta difficoltà e lo restituirò ben presto alla proprietaria mi permetto di aprire una piccola parentesi cari amici per quanto riguarda l'uso di queste batterie qui quindi se potete io vi imploro vi supplico e vi invito non acquistate e non utilizzate questa tipologia di batterie ultra economiche di marche sconosciute e di provenienza altrettanto sconosciuta ma credo siano prodotte in cina esatto made in china perché per quanto costino poco valgono altrettanto poco non utilizzate queste batterie vi supplico così come anche queste altre batterie pile alcaline made in china piuttosto ragazzi vi consiglio di spendere uno o due euro in più ma di acquistare delle batterie di buona qualità che sicuramente non vanno a pisciare acido in giro per i vostri telecomandi o in giro per i vostri dispositivi elettronici queste batterie no assolutamente no bene detto questo possiamo osservare in tutta la sua bellezza il mio tavolo da lavoro improvvisato sopra la mia lavatrice rex e con questo io vi saluto mi auguro insomma che questo breve video vi sia piaciuto mi raccomando ancora una volta vi consiglio assolutamente non acquistate batterie di qualità ultra scadente e con questo vi saluto e ci vediamo in un nuovo video alla prossima statemi bene